Al cinema viscerale di Katrin Bigelow, ho sempre preferito le mie viscere. Sì, siamo bombardati dai nostri dolori di pancia, e la Bigelow è buona, è buona, ma come diceva Joe Pesci di quei bravi ragazzi, è buona, ma come il piombo, boom boom boom. Ah ah, sì, la Bigelow è una donna piacente, o meglio lo era. Adesso onestamente leggermente agé, sebbene ancora in passerella voglia far la passerona, vestendo tailleur attillante. Adesso commessi di ritardo rispetto all'uscita statunitense, arriva con questo Detroit, film osannatissimo. Oh son, oh son, si lo portano in cielo. Dalla critica, anche se a ben vedere sono in parecchia a non essere stata del tutto entusiasmata da questa prova registrica, tecnicamente inicepibile e superlativa, ma forse carente di quel pathos, veramente sentito o schierato, che l'avrebbe reso un film più ideologicamente compatto. Un certo Meraghetti, che voi conoscete bene, nella sua breve disamina, lo ridimensiona abbastanza, chiosando così. È il cinema muscolare e adrenalinico di cui la regista è campionessa, giustificato dalle irrisolte contraddizioni razziali di un potere so white, ma che sembra preoccuparsi soprattutto di infiammare l'emotività piuttosto che aiutare a ragionare. Eppur sento dire in giro che è un gapolavoro, che non si discute, pareri di esimi critici, ma, mamma, io dubbi merito e tal dubbi nutrisco scorrendo la sua filmografia. Loveless, do loveless, do loveless, il buio si avvicina, blu steel, bersaglio mortale, point break, punto di ruotura, strange days, strange days. Il mistero dell'acqua, dove c'è una lizza, lì al bacio, diciamo. K-19, K-K-K, come la tua K da cazzo. Art Looker, Art Looker, Art Looker, The Duck City, Detroit, Detroit. Sì, film tutti apprezzabili, con punte, con punte di valore in point break, strange days. La sua filmografia è un tempo che un tempo mi pareva più interessata esclusivamente alla purazione adrenalinica, senza pretenziose ambizioni sociopolitiche, sulle quali peraltro la Bigel sembra essere stata stravolta, no, stavolta, piuttosto superficiale. Non voglio polemizzare sulla sua maestria, sul suo stile roccioso e viscerale, appunto, appunto, appunto. Ma sapete, sono tempi in cui le mie viscere hanno poco da spartire con questo genere di film. Film stupendo, brava, 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 applauso, applauso. Ma meglio la bravo. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Meglio non dire, e tu, e noi, e lei, fra noi. Al che penso al cinema muscolare di Silvestre? Silvestre di Rocky. E poi scopro che ha una figlia abbastanza stallona, Sofia, Sofia, a cui potrei essere lo stallone italiano. E vedrai come fila poi con Sofia. Insomma, fatevi neri per acclamarla a Bigelow. Ognuno la sua, ognuno la sua. Lo sapeva Moretti in quegli strani giorni di aprile. Hai mai geccato? Hai mai zigo viaggiato? No, mai. Ah, un cervello vergine. Ti faremo cominciare bene. Sei proprio sicuro che vuoi essere collegato? Sì, sì, lo voglio. La vedi quella filippina superdotata laggiù? E lo vedi quello lì che balla con lei? Eh? Ti piacerebbe essere lui per venti minuti? I venti minuti giusti? Io lo posso fare accadere senza nemmeno farti macchiare la fede nuziale. Finiamo con questa. Vincenzo detto dagli amici... Finiamo con questa. Vincenzo detto dagli amici... Vecinze. Uè, come stai, Vecinze? Tutto a posto. Vecinze. Vecinze è andata, Vecinze? Sì, Vecinze. Forza, forza, cantare! Vecinze è andata a Vecinze, Sì, ma cinze. Vecinze, 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 A Vecinze, con cinze.